Il primo giorno del nuovo mondo Il primo giorno del nuovo mondo Ci risvegliamo a un accenno dell'alba Salutando con gli occhi il ritorno del sole Nell'aria un profumo di pane sfornato E un'improvvisa voglia di capriole Dati regalera una rosa Ai ultimi componimenti realizzati sulla scia delle riflessioni stimolate dal lockdown È stato Simone Cristicchi il protagonista dell'ultimo appuntamento del Passioni Festival All'Arena Eden in scena il suo spettacolo tra musica e parole Che ha incantato, fatto divertire e commosso il pubblico presente Essendo sempre continuamente in tournee È difficile riuscire a scrivere qualcosa di nuovo se non ci si ferma Quindi per me è stata quasi una benedizione questo tempo Ovviamente rispettando il dolore delle persone che sono morte, che si sono ammalate Ho cercato però di dare il meglio Di sfruttare questo tempo al massimo Per ritornare più forte di prima Con delle nuove idee, con delle nuove canzoni Sul palco assieme al cantautore romano Anche il giornalista Massimo Orlandi Con il quale Cristicchi ha scritto il libro Abbi cura di me Chi ha dato vita sul palco ad un evento omonimo E racconta un po' il mio percorso artistico Parallelamente a quello umano Quindi questa sera poi ci sarà anche occasione di far vedere delle fotografie Dei filmati E di cantare anche dal vivo qualche mia canzone E di cantare anche dal vivo